La città metropolitana di Torino è ricca di acque, ma nonostante questo non riusciamo a raggiungere gli obiettivi di qualità che l'Europa ci ha dato in buona parte di questi corsi d'acqua. Questo è dovuto anche al cambiamento climatico e che ci porta ad avere situazioni durante l'anno di straabbondanza e in molti periodi dell'anno invece di carenza, insufficienza di quello che sono le esigenze dei territori. Per questo motivo occorre un cambio di mentalità, un cambio di mentalità proprio nella gestione delle risorse idriche. Un cambio di mentalità che ci permette di soddisfare tutte le richieste che ci provengono dai territori, dai portatori di interesse che sono nei nostri territori. Per fare questo la città metropolitana da diversi anni, una tra le prime in Italia, ha adottato i contratti di lago e di fiume, un sistema di concertazione e di condivisione delle scelte che riguardano proprio le risorse idriche, quindi andando anche a soddisfare quelli che sono i bisogni non soltanto dei singoli portatori di interessi, ma dell'intera collettività che ne usufruisce. Attraverso questi video la città metropolitana intende dare un supporto concreto, specializzato, a quei tecnici che all'interno delle amministrazioni quotidianamente lavorano per dare supporto alla politica locale. Quindi video altamente specializzati che permetteranno agli operatori e ai tecnici di essere più coscienti e aggiornati su quelle che sono le problematiche di questa delicata gestione che è il mondo idrico del nostro territorio. Consapevoli, di conseguenza, dare un buon servizio a quelli che sono i portatori di interesse e soprattutto a tutti i cittadini. Grazie a tutti.